Ciao a tutti da Diego di Tecnoform.it e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlo di Huawei MatePad 11,5s nella versione Paper Matte. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il nuovo tablet di Huawei ha una speciale pellicola che grazie alla tecnologia del display LCD, davvero ottimo come colori e come luminosità, vi darà un piacevolissimo effetto carta che, oltre ad avere questa funzione particolare, permette anche di non avere il fastidioso riflesso che abbiamo durante l'utilizzo di un tablet. Il display è grande e a seconda di come lo incliniamo, riflette qualsiasi cosa che si circonda bene, questo non accade. È un display davvero molto molto bello da vedere. Tra l'altro il tablet, guardate qua che spettacolo, 11,5 pollici è la dimensione del display, 6,2 mm, lo spessore è davvero molto molto sottile e pesa soltanto 500 grammi. Tra le opzioni di utilizzo c'è anche la possibilità di acquistare la penna a parte e questa penna di Huawei è davvero una roba esagerata perché vi permette di fare qualsiasi cosa sul tablet, se siete dei disegnatori la amerete perché ha un miliardo di funzioni, ma può essere semplicemente anche utilizzata per scrivere e prendere degli appunti. Si ricarica via wireless, utilizza la tecnologia Nairlink, ma adesso giriamo l'inquadratura, andiamolo a vedere da vicino perché ci sono davvero tantissime funzioni che vi devo far vedere e che vi devo raccontare. Allora, quello che vedete adesso inquadrato è tutto il kit completo, perché? Perché c'è la possibilità di acquistare anche la sua tastierina ripiegabile, vedete che fa anche da cover ed ha anche, come vi ho detto, la penna. La tastiera è molto comoda da utilizzare, utilizza la tecnologia Nairlink, si attiva automaticamente una volta che viene collegata e purtroppo non è presente un trackpad. Mi sarebbe davvero piaciuto tantissimo il trackpad, lo trovo davvero molto comodo perché comunque ci spinge a dover utilizzare o la pena per muovere le pagine del display oppure il dito e questa è una cosa abbastanza scomoda. Tuttavia la tastiera l'ho trovata davvero molto molto comoda nell'utilizzare, ha i tasti ad una grandezza naturale, quindi non sono neanche troppo piccoli e si riesce a digitare davvero molto bene. Purtroppo non c'è la possibilità di uscire ad esempio dalle app, se entriamo dentro a un'applicazione, stavo guardando delle cose, non c'è la possibilità di schiacciare un tasto per tornare indietro. Possiamo sì scorrere in alto e in basso, però non abbiamo la possibilità di andare a uscire dalla, di tornare nella home page ad esempio con un tasto. Dobbiamo per forza comunque effettuare questo tipo di gesto. La tastiera chiaramente è staccabile, è estraibile e è anche ricaricabile. In questo caso diciamo si ricarica attraverso il tablet ed è una funzione davvero molto molto comoda. Ma adesso concentriamoci su di lui, sul tablet. Allora questo è il display, come vi ho detto la penna permette di fare qualsiasi funzione e la possiamo utilizzare anche al posto del dito che questa è una cosa piuttosto banale. Voglio farvi vedere delle funzioni che sono state introdotte, come ad esempio la possibilità di fare uno swipe dall'alto verso il centro per attivare la possibilità di annotare al volo oppure prendere un'acquisizione del display, fare uno screenshot. Chiaramente poi, sistema operativo basato, vi ricordo, su Android, qua abbiamo il pannello di controllo dove ci sono diverse funzioni. Una funzione molto interessante è la modalità ebook, magia, diventa tutto in bianco e nero. E questa, se dobbiamo leggere dei testi, magari senza affaticare gli occhi, questa è veramente uno spettacolo perché ci dà la possibilità di avere tutto un colore monocromatico, tra l'altro possiamo anche aumentare o diminuire la luminosità, e è davvero molto riposante per quanto riguarda gli occhi. Devo dire che Huawei ha puntato molto su questa funzione della protezione degli occhi, tra l'altro abbiamo anche la possibilità di attivare un'ulteriore protezione degli occhi che andrà ad attenuare quelle tonalità blu che possono dar noia durante un utilizzo prolungato. Devo dire che davvero mi piace tutta questa cosa del display, io ho un iPad Air M2 e non ce l'ha, diciamo, tutte queste funzioni, e devo dire che non mi dispiacerebbe averci. Va bene, detto questo, applicazioni. Allora, quando vi arriva ci sono un po' troppe applicazioni, secondo me, installate da Huawei, tutte queste qua di intrattenimento, che non sono proprio installate, però vi suggerisce di installarle, come ad esempio anche i giochi e tutte queste cose qua. Sinceramente avrei preferito scegliere io quello di scaricare, vedete, guardate quante ce ne è. Ci sono davvero parecchie, secondo me sono un pochino troppe. Per la funzione delle note c'è l'applicazione Note, che è esattamente questa, ed è una funzione davvero molto molto comoda, molto bella, molto ben fatta, che permette di andare ad avere questa specie di libreria con tutti i nostri file, ma soprattutto permette di scrivere, scrivere, scrivere alla grande, chiaramente riconosce il palmo, riconosce quando abbiamo appoggiato la penna, ma soprattutto, sentite qua, vediamo se si sente. E' come scrivere su un taccuino, e poi, soprattutto, guardate la velocità di questa penna e la pressione, ok? Piano, premo. Si può utilizzare in tutti i modi, ha diversi tipi di inclinazioni. Se sapete disegnare, io praticamente, un gatto e io siamo la solita cosa nel disegnare, mi dà la possibilità di veramente esprimere al meglio la vostra creatività. Tra l'altro abbiamo la possibilità anche di fare questi sgorbi, no? E per magia diventano cose rotonde e cose belle. Possiamo, vedete, fare questi cerchi, allargare, restringerli, possiamo fare un quadrato. Praticamente basterà effettuare una forma, rimanere fermi con la penna, e lui poi ce lo va a creare in modo preciso. Tra l'altro, guardate, possiamo anche scegliere di unirli, e abbiamo anche la possibilità, una volta dopo, vedete, di spostarlo e andare a personalizzarlo. Vedete che ho fatto un capolavoro, ho fatto comunque. Ritorniamo al nostro tablet, perché qua, vedete, mi sono scritto tutte le cose che vi dovevo dire e ve le leggo, perché il display, come ho detto, da 11,5 pollici con effetto carta antiriflesso, io ve lo faccio vedere in tutti i modi. Vedete che il display si vede praticamente in ogni condizione, non riflette un bel niente, ed è una cosa davvero che adoro io questa. E' davvero un super display. 8 GB di RAM, più 250 GB di memoria interna. Lo spessore, come vi ho detto, è di 6,2 mm, è un tablet davvero molto, molto sottile, e pesa 512 grammi. Ci sono quattro speaker, 1, 2, 3 e 4, che suonano in una maniera davvero esagerata. Da paura dopo ve lo faccio sentire. La risoluzione del display è 2800x1840, e il tutto è spinto da un processore Kirin 900 Octa-Core. Nel retro abbiamo una fotocamera posteriore da 13 megapixel, che è in grado di registrare video fino al Full HD, se avete bisogno di registrare dei video lì fa, fondamentalmente, e mentre nella parte frontale abbiamo una fotocamera anteriore, che è esattamente qua incastonata nella cornice, no, scusate, è qua incastonata nella cornice da 8 megapixel. La batteria è da 8800 mAh, giorni, ma veramente giorni di standby e giorni di autonomia, ha la ricarica rapida da 9V, 2A, il Wi-Fi è nella versione 6, il Bluetooth è nella versione 5.2, supporta audio AAC e supporta anche l'audio LDAC, se avete degli auricolari compatibili, quindi potrete utilizzare l'audio ad alta definizione. Ma in più abbiamo la porta USB tipo C che supporta l'On-the-Go, quindi OTG, ci possiamo collegare hard disk, chiavetta, eccetera, eccetera, e in fondo, cosa abbiamo? L'uscita TV, quindi basterà comprare semplicemente un cavo HDMI e Type-C e lui cosa fa? Ci andrà a collegare alla televisione e potremo utilizzarlo come mirroring. Ma il mirroring c'è la possibilità anche di utilizzarlo via wireless attraverso la funzione, vedete qua, multi-screen collaboration, oppure attivando semplicemente la proiezione wireless dello schermo. Ok? Qua abbiamo il nostro pannello delle notifiche e il tutto si utilizza in una maniera davvero molto molto semplice, perché se entriamo ad esempio in un'applicazione, per uscire abbiamo questo gesto, che è esattamente questo, se poi teniamo il dito premuto verso il centro, queste sono tutte le applicazioni che sono aperte. Guardate ragazzi come è fluido, cioè io vado ad aprire applicazioni così a caso e lui va e fa cose. Allora, questa è l'app per i disegnatori. Ripeto, io non sono assolutamente in grado di disegnare, però vi posso far vedere e convincervi che riesco a fare un capolavoro come questo. C'è un tutorial davvero molto molto bello, se qualcuno ha voglia di perfezionare e di imparare a disegnare, basterà seguire questo tutorial e diventerete dei piccoli pittori, diciamo, esperti sui tablet. Ma ripeto, chiaramente ci deve essere una base, perché se siete come me che non siete assolutamente in grado di disegnare, non è che andate tanto lontano con questo tipo di applicazioni. Sono tutte applicazioni che sono già preimpostate, quindi la penna, diciamo, viene utilizzata alla grande attraverso delle applicazioni di Huawei e abbiamo anche poi la possibilità di installare anche altre applicazioni. Io ho fatto un pochino di prove, perché comunque, come sapete, non ci sono i servizi di Google, però devo dire che non ne ho assolutamente sentito la mancanza, perché comunque DaZone c'è, no, c'è, Apple TV Music, Apple TV c'è, Plex c'è, l'applicazione EasyVis per le telecamere c'è, Replay c'è. Io potrei continuare andando avanti dicendo c'è, non c'è, non c'è, ma non è lo scopo di questa recensione. Devo dire che nel complesso non ho assolutamente sentito la mancanza dell'applicazione di Google. Abbiamo anche Petal Maps, che è davvero molto, molto bello, molto migliorato fondamentalmente e ci sono tutte le informazioni che ci possono servire. Possiamo cercare dove vogliamo andare, ci dirà anche le strade, eccetera, eccetera. Quindi è una funzione, diciamo, molto completa di mappe che, devo dire, funziona, che è quello che poi alla fine interessa. Torniamo adesso all'applicazione Note perché vi voglio far vedere le sue, diciamo, principali funzioni. Ad esempio c'è la possibilità di andare a tradurre la scrittura a mano in testo, come in questo caso. Vedete, ho fatto delle prove, questa è una prova di scrittura, questa è una prova di testo e devo dire che si comporta abbastanza bene. Bisogna scrivere in un linguaggio comprensibile. Se scriviamo un po', chiaramente, di corsa, eccetera, eccetera, ha delle difficoltà, ma questo penso che sia assolutamente normale. Qua in alto abbiamo tutta una barra con le varie funzioni disponibili. Abbiamo la possibilità di cambiare diversi tipologie di penne, penne stilografica, la matita, la penna normale, ma c'è veramente assolutamente qualsiasi tipo di tipologia di penna colore e testo tratto, volevo dire. Se facciamo un doppio tap laterale, vedete, come in questo caso qua, cosa succede? Che passa da gomma a penna, da penna a gomma. Quindi in questo caso, cancelliamo, facciamo così, doppio tap, ritorna lì e scriviamo. In questo caso ho fatto un po' di disastro con il trepide. Comunque abbiamo la possibilità di avere la gomma, abbiamo la possibilità di avere la selezione di una parte del nostro testo, abbiamo la possibilità di inserire una casella di testo, come in questo caso. Possiamo poi anche scegliere di inserire un'immagine, scattare una foto, una foto recente, zoomare. Abbiamo la possibilità di abilitare o disabilitare il tocco con la mano. Possiamo scegliere di cambiare il modello, ovvero la possibilità di utilizzare una riga più lunga, una quadrettatura, oppure un foglio bianco. Vedete ci sono varie layout e varie funzioni che, a seconda della nota che dobbiamo creare, ci vengono assolutamente in aiuto. Abbiamo anche la possibilità di registrare dell'audio da allegare a queste note. Il menu laterale ci dà la possibilità di esportarlo in diversi tipi di file, aggiungere un blocco, bloccarlo, tirare la pagina, attivare delle gesture rapide e comunque andare ad integrare le note con tutte le nostre cose che ci possono servire. Quindi devo dire che è un'applicazione davvero completa che vi permette di sfruttare al massimo la possibilità di prendere appunti, soprattutto durante lo studio e di rimanere sempre sul pezzo grazie alla scrittura e alla penna. Andiamo ad aprire adesso l'applicazione di musica che vi voglio far sentire la potenza di questi speaker. Adesso io il microfono ce l'ho attaccato alla maglia. Quindi avviciniamo. Ciao ragazzi, è davvero esagerato. Andiamo ad abbassare. Vi voglio far vedere anche un'altra cosa, davvero molto interessante. Abbiamo la possibilità di ridurre delle applicazioni con delle finestrine fluttuanti che le possiamo mettere dove ci pare, le possiamo rimpicciolire. Vedete? Come in questo caso, riallargare. Ed è una funzione davvero molto comoda perché, vedete, le applicazioni che sono compatibili sono quelle che hanno questo disegnetto qua. Andiamo a mettere anche questa petal clip. Come in questo caso. E poi possiamo scegliere se ridurla a icona, quindi se ne andrà lì laterale, oppure rimetterla a schermo intero. C'è un'altra possibilità per andare a creare delle finestre flottanti che è esattamente questa. Basterà tenere premuto, facendo lo swipe da fuori il display verso l'interno, si apre questo menu dove sono tutte le applicazioni che sono compatibili per la modalità di finestra flottante, come ad esempio la possibilità di andare a aprire la galleria. Vedete? Vedete? In questo caso. Andiamo a spostare. Ecco, bisogna prendere lì. Poi rifacciamo così e andiamo a prendere magari anche la gestione file e la mettiamo. Queste, diciamo, erano delle funzioni in più che abbiamo su questo sistema operativo di Huawei. Vediamo anche il browser. Il browser è proprietario di Huawei. È un browser che funziona davvero molto, molto bene. È molto, molto rapido. C'è la possibilità di zoomare, zoomare e zoomare perché non l'avesse cambiato. È arrivato Robocop. Ok, questa è la Repubblica. No, ho sbagliato. Non volevo mettere, non volevo fare l'abbonamento. Il caricamento è molto rapido. Devo dire che si riesce davvero a utilizzare, tra l'altro, molto, molto bene. Ripeto, c'è la possibilità di andare con la modalità e-book. Ed ecco fatto che la Repubblica diventa in bianco e nero e abbiamo la possibilità di leggere senza avere grossi problemi ai nostri occhi, come in questo caso. Siamo arrivati quindi alle conclusioni finali. Innanzitutto il prezzo. Allora, se volete il bundle completo, quindi cover con tastiera integrata e penna, 469 euro. Il tablet solamente ha un prezzo di 399 euro. Però, sul sito Huawei, la penna è in omaggio. E la penna ha un valore di 99 euro. Chiaramente, con 469 euro, poi ci sono anche dei risconti per il back to school in questo momento, se siete interessati, diventa un prodotto davvero stra-interessante. È un tablet che, devo dire, mi ha convinto sotto qualsiasi tipo di aspetto. E nonostante, comunque oramai si sa che Huawei ha abbandonato i servizi Google da oramai diversi anni, devo dire che in un tablet la mancanza dei servizi Google non si sente, non è un problema. E devo dire che comunque in questi ultimi anni Huawei è cresciuto davvero tantissimo col suo ecosistema, con il suo sistema operativo. E devo dire che in un tablet assolutamente mi sento di consigliarvelo senza nessun tipo di problema, perché comunque le app ci sono quasi tutte quelle più importanti, almeno quelle che utilizzo io ci sono. E in caso comunque di mancanza di qualche app, si trova. Il modo di installarla si trova e funziona davvero tutto molto molto bene. Nel complesso il sistema operativo si muove davvero molto molto bene. È un tablet sempre molto fluido e io sono rimasto impressionato dall'audio. Ha un audio davvero spaventoso, ragazzi. Lo potete usare come speaker per ascoltare la musica, perché suona davvero da paura. Quindi, davvero promosso. Tra l'altro anche il display è un piacere utilizzarlo a letto, un piacere utilizzarlo di notte, non ha fatica agli occhi. Devo dire che mi è davvero piaciuto, mi ha convinto. E complimenti a Huawei perché era da tanto che non riprovavo un loro prodotto e devo dire che adesso ne ho sentito la mancanza. Io vi saluto, vi do appuntamento ai prossimi video. Questo era il Huawei MatePad 11,5S nella versione Paper Matte. Ciao! Da Diego. Non si vede più lo sblocco. È questo.